Direi di iniziare, tanto vedo che più o meno la sala si è riempita. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Fabio Grasso, lavoro per Itatis SRL, siamo una società di consulenza informatica con un particolare focus sulle suite di collaboration di Lotus. Personalmente sono certificato per la 8.5 come administrator e ormai mi occupo di Lotus dal 2004 con la versione 6.5. Un rapidissimo briefing su quello che faremo oggi, farò una fase introduttiva in cui vi spiegherò un attimino quali sono i prodotti che andremo a utilizzare. Vedremo poi nel dettaglio cosa sono e cosa fanno ognuno di questi prodotti. Vedremo come fare un'installazione e una configurazione base dei prodotti di monitoraggio e poi per finire ci concentreremo sul monitoraggio di domino, che è quello che poi ovviamente interessa maggiormente noi. Ci sarà poi ovviamente spazio per eventuali domande se ce ne saranno. Qual è il nostro scopo? Il nostro scopo è intervenire su un problema prima ancora che il nostro cliente o i nostri utenti se ne rendano conto. Quindi cercare di avere sott'occhio la situazione di tutto il nostro ambiente informatico e avere degli alert prima che i problemi diventino gravi e quindi provocheranno un disservizio. Sul mercato ovviamente esistono vari prodotti che permettono di fare queste cose, anche IBM ne produce alcuni. Noi però oggi vedremo una soluzione completamente open source e relativamente semplice da implementare, magari con qualche accortezza che poi vi dirò. Questa cosa nasce per noi nel 2010 con una tesi fatta in collaborazione col Politecnico di Milano presso un nostro importante cliente dove è stata analizzata la sua infrastruttura informatica, quindi è stata diciamo schematizzata e dopodiché è stato appunto installato questo prodotto di monitoraggio per tenere sotto controllo tutti i server e tutti i servizi attivi. Una realtà abbastanza importante con una cinquantina di server, vari switch, router, per cui diciamo era importante avere una visione di insieme. Nel corso degli anni ovviamente il sistema poi è stato sempre ampliato andando addietro un po' ai cambiamenti infrastrutturali e sono state aggiunte anche delle feature che non sono previste nella diciamo versione base come ad esempio gli sms utilizzando un hardware gsm qualora c'è un problema ad esempio sul server blackberry per cui la mail di notifica del problema non mi può arrivare a questo punto mi arriva un sms e quindi bypasso completamente il sistema informatico e ricevo sul telefonino comunque l'alert. Ovviamente so che se alle 4 del mattino mi squilla il telefonino aziendale c'è un problema grave perché se mi arriva l'sms c'è fermo qualcosa di importante. Diciamo che dopo tutti questi affinamenti il sistema di monitoraggio ci permette di individuare e in molti casi risolvere il problema prima ancora che il cliente se ne accorga. Comunque sia anche se il problema è già diciamo in atto ci dà una visione di insieme e quindi ci permette di individuare immediatamente il problema senza fare lavori di indagini molto onerosi in termini di tempo. Quindi io apro la mia console vedo che il server X col servizio Y ha un problema e so già dove andare a parare. Inoltre viene diciamo raccolto un archivio storico che ci permette poi di andare a generare dei grafici di funzionamento e anche andare a recuperare informazioni storiche. Questo è molto importante quando dobbiamo andare magari a valutare degli upgrade hardware quindi vedere ad esempio il carico del server nel corso del tempo e anche per diciamo tenere sotto controllo i service level agreement. Quindi ci permette di dimostrare al nostro eventuale cliente o al nostro responsabile che il sistema ha funzionato bene e per 99,99%. Abbiamo diciamo creato un pacchetto noi come azienda che abbiamo chiamato Itatis Monitoring che è basato appunto su Sentryon e Nagios e aggiunge un po' di feature come ad esempio quella degli SMS. Noi comunque oggi ci limiteremo diciamo alla versione open source. quindi abbiamo nominato Nagios e Sentryon. Nagios è un software open source di diciamo network administration molto scalabile e molto flessibile che consente di diciamo monitorare computer, LAN, server e diciamo qualunque apparato abbia un indirizzo IP. La suite quindi appunto serve per monitorare nodi, reti e servizi permette una definizione gerarchica dei nostri nodi e questo è molto importante per evitare di ricevere delle notifiche ridondate. Mi spiego meglio. Situazione classica. Si rompe lo switch a cui è attaccato il server. Nagios di monitoraggio. In condizioni normali se io ho impostato delle notifiche riceverò centinaia di mail che mi dicono che 100 server sono irraggiungibili. Gestendo invece le parentele io riceverò una notifica che mi dice che lo switch è rotto e poi tutte le altre cose in cascata vengono considerate irraggiungibili, non morte. Di conseguenza io evito di ricevere 100 mail che poi perdo un sacco di tempo prima di capire qual è l'effettiva origine del guasto ne ricevo una che mi dice che è rotto lo switch e io in automatico so che tutto quello che c'è dietro in qualche modo non sta più funzionando bene. E poi l'abbiamo già detto comunque informa l'admin o chi per esso tramite email e sms in caso di criticità. Nagios è molto versatile ma come diciamo spesso capita nei prodotti open source ha una configurazione un po' macchinosa. Qui vediamo un esempio di un file di configurazione è abbastanza semplice però ovviamente editare un file del genere per 50, 100, 200 server e altrettanti servizi può diventare molto macchinoso. Esistono dei software che ci aiutano nella configurazione ma comunque richiedono sempre delle affinamenti manuali. Inoltre ha un'interfaccia grafica che per quanto mi dia tutte le informazioni del caso come ad esempio i servizi attivi e tutto il resto però è un pochettino spartana. Per diciamo migliorare la situazione ci viene in aiuto Centron fondamentalmente è un altro prodotto open source che si basa come motore su Nagios ma aggiunge delle funzionalità grafiche e di configurazione un pochettino più avanzate. È disponibile in due versioni una stand alone che si installa su un server Nagios esistente oppure ed è quella che vedremo oggi una versione appliance su cui voi andate a installare da un'unica ISO un sistema operativo Linux personalizzato Nagios esistente che sono già pronti all'uso con MySQL, Apache e tutto quello che ci va dietro. E vedremo appunto dopo che l'installazione si fa in meno di un'ora. I vantaggi di Centron sono appunto una migliore interfaccia grafica un motore che diciamo è basato come codice su Nagios ma è stato ottimizzato quindi è più veloce e più efficiente e un pacchetto di plug-in già pronti all'uso. Poi ci sono delle diciamo add-on commerciali che permettono di aggiungere funzionalità di business intelligence quindi generazione di reportistica avanzata visualizzazione dei dati su mappe eccetera eccetera gestione di server poller diciamo aggiuntivi su sedi remote quindi posso creare una rete di server che fanno la raccolta dei dati e poi li inviano al server centrale. Questo è comodo se avete reti geografiche magari con connessioni non proprio performanti quindi fate la raccolta dei dati su una postazione remota e poi li convogliate sul server principale. E poi ovviamente è un prodotto open source ma c'è comunque dietro un'azienda commerciale e quindi per diciamo realtà di tipo enterprise è anche importante avere il supporto ed è fornito da vari partner tra cui ad esempio in Italia ci siamo noi ma in tutto il mondo ci sono dei partner che fanno supporto e consulenza. Poi ovviamente ci sono tante altre feature vi ho indicato sulla slide il sito ufficiale potete eventualmente poi consultarlo. Questa è l'interfaccia grafica di Centron. Come vedete è un pochettino più carina diciamo esteticamente rispetto a quella che abbiamo visto prima. Adesso questo è diciamo un server già esistente con un bel po' di nodi configurati e mi dà una diciamo una visione di insieme di quello che è la mia rete. Mi dà il diciamo il totale di server che in questo caso sono tutti diciamo app quindi raggiungibili il totale di servizi ok warning e critical e poi sotto mi dà la lista di tutte le situazioni d'allarme. In questo caso ad esempio sono dei firewall e dei router in Cina abbiamo le reti molto lente quindi spesso il ping il tempo nel ritorno è alto e quindi mi viene segnalato e so che c'è questa problematica. Questo è un altro esempio diciamo dell'interfaccia grafica è una funzione di reportistica che c'è già nella versione open source e permette di vedere per host o per gruppi di host delle statistiche globali di funzionamento. Nell'esempio io ho preso il gruppo UPS e gli ho detto di farmi una statistica degli ultimi 30 giorni e lui mi dice che abbiamo avuto un uptime del 99,98% e quindi siamo tutti contenti ovviamente. Questo è un esempio dei grafici che vengono generati in questo caso è il grafico ad esempio del tempo di ping di un firewall e quindi posso andare eventualmente a individuare nel corso del tempo eventuali criticità quindi in questo caso vedo che è aumentato il livello quindi sicuramente in questa fascia oraria si può essere verificato un problema sulla rete. Poi questo è un grafico di insieme posso ovviamente stringerlo e allargarlo in fascia temporale e posso poi andare a vedere nei log in quel frangente quali sono stati i valori precisi. Questo è un altro esempio è il livello di carico di un server Linux quindi con il load a un minuto a 5 minuti a 15 minuti. Vediamo come si installa molto rapidamente perché l'installazione è banale se avete installato Lotus Domino questa è una passeggiata. I requisiti sono banali un qualunque server x86 che sia eventualmente a 64 o 32 bit è indifferente CPU e RAM non c'è un numero preciso vanno un attimino dimensionate e affinate in base al numero di host e servizi che andate a a monitorare e anche l'hard disk in base alla quantità di dati che volete poi mantenere in archivio. A titolo esemplificativo una nostra installazione con 160 host e un migliaio di servizi è su un server IBM di fascia media un processore Xeon 12 giga di RAM e un hard disk in RAID 1 da 146 giga quindi niente di sconvolgente. Consiglio comunque di utilizzare dei server fisici non virtuali perché innanzitutto se poi ci sono problemi sull'hypervisor non avete modo di rendervene conto e in seconda battuta i server fisici hanno la possibilità tramite USB seriali di collegare cose aggiuntive come ad esempio appunto moduli GSM per mandare gli SMS e anche eventualmente console esterne di segnalazione spie luminose led ci sono aziende che producono svariati hardware compatibili con Agios a titolo esemplificativo questa installazione dopo tre anni di funzionamento ha occupato 40 giga di disco quindi praticamente nulla l'installazione come dicevo è banale si scarica dal sito di Centron la ISO di installazione la si monta o si inserisce nel server e appare diciamo questa schermata adesso si vede poco perché purtroppo la qualità del proiettore non è eccelsa è la classica installazione avanti, avanti, avanti si sceglie la lingua io consiglio sempre di utilizzare l'inglese perché poi se ci sono messaggi di errore è più facile andarli a cercare layout di tastiera la partizione anche in questo caso se non avete esigenze particolari lasciate fare a lui si occupa tutto il disco non ho capito questa è la versione open source si 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 chiama enterprise server perché poi ci sono delle versioni con delle funzionalità aggiuntive a pagamento però questa versione che vi sto facendo vedere è assolutamente gratuita il fuso orario queste sono le classiche informazioni la password di root vado veloce perché sono cose già viste parte la formattazione e la copia dei file tempo tecnico dipende dalla velocità del server dai 10 minuti al quarto d'ora si fa il reboot del server una volta che ha finito e la prima cosa da fare è ovviamente configurare la scheda di rete perché il server di suo parte in DHCP nel 99% dei casi vogliamo dargli un IP statico e quindi qua lo andiamo a configurare si edita quindi la configurazione delle schede di rete vado veloce poi eventualmente c'è tutto nella documentazione finita l'installazione lancio il browser sul adesso qua ho messo le X ma indico l'indirizzo IP del nostro server va in HTTP poi eventualmente modificando la configurazione di Apache è possibile comunque configurarlo in HTTPS se preferite però la configurazione diciamo base è in HTTP puzzle predefinite admin centreon faccio login e a questo punto vediamo come fare appunto una configurazione base di questo prodotto la schermata che mi appare dopo il login è questa quindi diciamo identica a quella che vi ho fatto vedere prima ma vuota c'è un menu che è questo che vedete qua in alto con varie voci nella sezione home abbiamo questa appunto schermata riepilogativa e delle statistiche sul funzionamento del motore Nagios questo cliccando lì mi dice ad esempio qual è il tempo medio di risposta quando si fa un'interrogazione al servizio prima che questo risponda sono proprio dati meramente statistici abbiamo poi il menu monitoring che è quello diciamo che mi interessa di più per la visualizzazione che mi permette di vedere i servizi gli host e il registro eventi quindi nell'area servizi abbiamo tutti i servizi che abbiamo configurato eventualmente filtrabili posso vedere solo i servizi che sono in uno stato di allerta o piuttosto che solo i servizi associati a un host o a un gruppo di host nel nostro esempio magari vogliamo vedere tutti i servizi SMTP di tutti i miei server domino quindi seleziono gruppo server domino servizio SMTP nella casella di ricerca e ho sott'occhio tutta diciamo tutta l'infrastruttura tutti i server SMTP host stessa cosa legata però ai server anziché ai servizi e il registro eventi che è quello che vi dicevo prima vi permette di andare a fare un'interrogazione e dire il giorno X allora Y questo server come stava e che valori aveva il menu view è quello che ci permette di vedere i grafici di funzionamento qui giusto per farvi un altro esempio ve ne ho indicati due questo è il controllo di un server SMTP con il grafico dei tempi di risposta ai millisecondi dell'SMTP invece questo qui è un controllo su un server BES Blackberry quindi mi dice il numero di mail pending su quel server anche in questo caso se supera un certo valore io posso generare un allarme perché presumo che ci sia un problema ma lo vediamo poi nelle prossime slide si adesso diciamo no no certo hai perfettamente ragione adesso sto facendo una panoramica poi vediamo proprio la configurazione e come si inseriscono le soglie ah perdonami una domanda sul dropping della porta 25 lui va soltanto diciamo una connessione nel senso che vede se gli risponde oppure abbastanza o può essere configurato per essere abbastanza uno per mandare una mail di test si allora dipende dal plugin che si usa il plugin che c'è configurato qua fa fondamentalmente un telnet alla porta 25 e basta ci sono però dei plugin poi in una slide ho indicato anche un sito dove c'è un bel repository di plugin che invece fanno di più quindi fanno ad esempio il classico elo e fanno una prova di invio mail ovviamente il tempo poi di arrivo della mail è un po' più difficilmente tracciabile però è possibile comunque monitorare la risposta fino diciamo all'ok del server SMTP c'è un plugin apposta per farlo no allora se si puoi installarlo e puntarlo a un server nagios esistente se non ce n'è ancora ti conviene utilizzare appunto la versione enterprise server che è quello che ho fatto vedere l'installazione che installa tutto in un unico pacchetto c'è anagios dentro si 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 viene installato tutto in parallelo ed è comunque open source il menu configuration che è quello che adesso andremo un attimino a spolpare per donatemi il termine che è quello che appunto mi permette di configurare gli host i servizi gli utenti i comandi che sono appunto quelli che poi fanno in abbinamento al servizio il controllo nagios quindi la configurazione appunto del motore e centron quindi la gestione come diciamo prima dei server poller quindi della raccolta dei dati su un'unica destinazione il menu administration anche qui ci sono varie diciamo opzioni diciamo molto importante a parte la gestione di eventuali moduli aggiuntivi che è quello che vi dicevo prima ci sono dei moduli commerciali che fanno delle cose in più e poi molto importante la CL perché questo è un sistema multiutente io posso creare più utenti all'interno di Nagios e posso dare dei permessi diversi a ciascun utente quindi il sistemista domino non mi interessa che vada a vedere lo stato degli switch e dei router gli faccio vedere solo i server domino mentre invece al sistemista di rete faccio vedere gli switch i router e quant'altro e gli nascondo i server domino ovviamente questo per realtà è un pochettino grosso in realtà dove c'è un unico admin l'utente è quello e fa tutto quindi la prima cosa che facciamo è crearci un'utenza come dicevo è possibile poi creare anche gruppi di utenze proprio per gestire le permission e anzi vi consiglio di farlo perché poi è molto più comodo gestire eventuali ingressi e uscite di personal.it se io ovviamente configuro un utente poi dovrò andare a modificare in tutti i server che sono abbinati a quell'utente se creo un gruppo basta che poi vado a modificare il gruppo in automatico ho configurato centinaia di servizi le mail vengono inviate con il classico postfix che è già diciamo embed nell'installazione di linux che viene fatta la configurazione predefinita fa una query mx sul vostro dns ma è anche possibile comunque modificarle in modo da dirgli di usare un smtp che specificate lo dico perché spesso nei dns interni non c'è il record mx del vostro dominio mi è capitato spesso di vederlo e quindi le mail non arrivano e sembra che ci sia un problema quindi sappiate che o registrate l'mx oppure modificate la configurazione di postfix creazione dell'utente banalissima configuration users aggiungi add appare questa schermata vi chiedo scusa se si vede poco ma purtroppo la schermata è ampia e ovviamente ridotta sulla slide è un po' poco visibile le informazioni che vanno inserite sono il nome un alias quindi un nome di login l'indirizzo email eventualmente il pager se volete fare la configurazione anche con gli sms lo vado ad aggiungere scusate ho dimenticato la freccia al gruppo supervisors avrei potuto creare un nuovo gruppo ma giusto per fare l'esempio lo aggiungiamo ai supervisors gli dico di abilitare le notifiche e gli dico che questa persona deve ricevere notifiche per gli host down e recovery 24 ore su 24 7 giorni su 7 poi la definizione di down recovery e tutte le altre opzioni la vediamo più avanti che vi spiego bene a cosa servono anche qui si può definire un time period diverso quindi ad esempio se avete personale IT che fa il turno notturno differenziato da quello diurno potete inserire orari diversi oppure chi segue il weekend e chi invece segue i giorni settimanali scrollando la schermata si arriva alle altre opzioni che sono le notifiche per i servizi anche in questo caso li abilito critical recovery time period anche in questo caso e poi ho dimenticato di dirlo prima qua gli vado a specificare il comando che viene utilizzato per mandare le mail quindi host notify by mail service notify by mail questi qua sono dei comandi che poi vengono lanciati sulla console linux questi sono comandi predefiniti che fanno un semplice invio mail con del testo preimpostato ma potete personalizzarli quindi inserire ad esempio comandi che vanno a pilotare un quadro di led piuttosto che un sms box adesso diciamo per fare questo questo esempio ci limitiamo solo alle mail e si salva a questo punto l'utenza è creata ed è inserita nel gruppo supervisor il secondo passo è creare un host a cui poi andremo ad associare dei servizi vengono chiamati host perché Centron non si limita a monitorare i server ma può monitorare qualunque cosa abbia un indirizzo IP ci sono plug-in anche per monitorare ad esempio le stampanti quindi generare un alert quando finisce la carta per esempio piuttosto che monitorare il switch quindi se c'è una situazione anomala su una porta dello switch me la va a segnalare ci sono gli UPS un'altra cosa molto importante controllare la batteria la temperatura e tutto quello che ci va dietro come abbiamo visto parzialmente nella slide di prima ciascun host può generare una notifica per vari stati gli stati sono down quindi l'host non risponde irraggiungibile un reachable perché l'host non risponde ma perché un host di livello superiore è down quindi l'esempio che ho fatto prima del firewall se il firewall si rompe dello switch scusate se lo switch si rompe tutti i server che sono dietro con lo switch vengono considerati irraggiungibili non down e quindi io posso decidere di non ricevere una notifica ricevo una notifica dello switch e basta recovery quando l'host è tornato online flapping è un'altra cosa molto interessante perché permette di va configurato un attimino però permette di individuare le situazioni di stallo la classica situazione in cui il server continua a riavviarsi da solo perché magari va in blue screen o c'è qualche altro problema in condizioni normali io riceverei magari 100-200 mail che continuano a dirmi il server è morto il server è vivo in questo caso a un certo punto viene riconosciuto questa situazione e mi dice ah il server è impazzito è in loop e quindi lo so e le notifiche successive non mi vengono più recapitate perché ovviamente è importante ricevere le notifiche ma è anche importante non riceverne troppe perché sennò poi scatta il meccanismo psicologico per cui vedo la mail da Nagios la cancello senza neanche leggerla e quindi si perde un po' l'utilità e poi infine anche questo è molto importante la manutenzione schedulata quindi è possibile definire un periodo in cui il nostro server è in manutenzione di conseguenza se so che il server è in manutenzione non mando notifiche e questo evita la classica situazione in cui un collega sta smontando il server l'altro riceverà notifiche e corre a vedere cosa è successo invece so che devo fare un intervento lo dichiaro all'interno di Dcentron e in quella fascia oraria non vengono inviate notifiche scusami c'è una proprio una voce all'interno degli host poi magari se avanza un po' di tempo alla fine ho una installazione funzionante me lo richiedi te lo faccio vedere ok allora anche in quel caso c'è diciamo il plugin standard che fa un controllo della porta 80 però in realtà fa un controllo della porta 80 un pochettino furbo perché si aspetta anche la risposta con adesso non mi ricordo il codice HTTP di esatto aspetta diciamo l'HTTP quindi di ok se poi si vuole proprio fare un confronto della pagina web c'è un plugin di cui adesso non ricordo il nome che fa un confronto con una pagina HTML che gli viene impostata quindi io posso prendere l'home page o una parte dell'home page e confrontarla poi se non ricordo male ce l'ho in una slide finale una cosa molto importante i plugin sono dei comandi Linux quindi se avete un po' di dimestichezza con bash piuttosto che python o linguaggi di scripting li fate abbastanza facilmente dimmi vengono inviate penso tra un mesetto quando realizzaranno il cd e viene spedito poi a tutti poi comunque se avete bisogno prima mi mandate una mail ci sono i miei contatti ve la mando in anticipo una volta configurato ciascun host può differire per vari parametri quindi ad esempio gli orari della giornata in cui viene monitorato vi ho detto prima che si possono monitorare le stampanti le stampanti magari di notte vengono spente quindi ogni volta che l'utente mi spegne la stampante mi arriva una notifica e mi dice che la stampante è morta invece qua gli dico che la stampante me la controlli dalle 9 alle 18 ad esempio tutti questi parametri possono essere definiti per ogni singolo host oppure ancora meglio inseriti in un template il template che utilizziamo oggi è quello generico il generic host e prevede controlli 24 ore su 24 7 giorni su 7 e notifiche per gli eventi down e recovery quindi non mi interessa se è raggiungibile fra ping eccetera semplicemente mi notifichi se è morto o se è tornato vivo e utilizza il comando classico ping per verificare se l'host è raggiungibile anche quello è possibile personalizzarlo perché potrei avere degli host che per questione di policy di regole sui firewall non rispondono all'ICMP e quindi potrei dargli un altro comando per verificare se l'host è vivo o meno anche in questo caso la configurazione è molto molto semplice il menu di riferimento è sempre configuration si va su host lo si aggiunge col tasto add e in questo caso gli unici dati obbligatori che devo inserire sono l'host name e l'indirizzo IP o il nome DNS per esteso tutto il resto viene preso in automatico dal template se invece io voglio fare delle variazioni posso andare a modificare tutti i vari parametri quindi ad esempio il check period il comando per fare il check però ripeto vi consiglio sempre di piuttosto creare un nuovo template perché è più comodo poi da gestire l'altra informazione che gli devo dare è a quale gruppo o a quale utente quest'host è associato per le notifiche in questo caso gli aggiungo il gruppo supervisors in cui io prima quando ho creato la mia utenza mi sono inserito e vado a salvarlo e diciamo che così da solo mi sta controllando se quest'host è raggiungibile o meno e mi invia una notifica qualora sia irraggiungibile Sì giusta osservazione allora devo dire la verità non abbiamo mai provato si può comunque agganciarsi a una ledapp si può comunque agganciarsi a una ledapp e poi dare le permission ai vari utenti che vengono presi dalle ledapp è una cosa che però dico la verità non abbiamo mai fatto perché è un prodotto che è dedicato agli IT quindi di solito è una cerchia di utenti abbastanza esatto è un prodotto molto tecnico per cui di solito si preferisce creare una cerchia di utenti ristretta e utilizzarla l'ultimo passo è la creazione di un servizio quindi noi abbiamo creato il nostro utente abbiamo creato il nostro host però quest'host oltre a essere vivo o morto ha anche dei servizi che devo controllare come vi dicevo appunto prima i servizi fondamentalmente eseguono un comando linux e poi ne leggono e interpretano l'output ce ne sono preinstallati ma potete trovarne tantissimi su questo server che è Nagios Exchange è proprio un repository ufficiale dove qualunque sviluppatore può pubblicare i plugin il 99% sono open quindi sono liberamente scaricabili utilizzabili altrimenti appunto come dicevo potete crearne abbastanza facilmente voi exchange.nagios.org come abbiamo visto prima oltre allo status corrente del servizio vengono tenuti tenuta traccia dei cambiamenti e vengono generati dei grafici ad esempio è possibile appunto vedere l'andamento della banda di un firewall piuttosto che il tempo di risposta nel tempo di un server domino qui abbiamo un altro esempio dei grafici che si possono generare anche i servizi analogamente agli host possono assumere più stati in questo caso non c'è un banale giù o su down o recovery ma c'è una soglia critica una soglia di warning perché è questo? perché ci sono dei servizi come ad esempio lo spazio disco che possono generare un messaggio di allerta ad esempio quando il disco arriva all'80% quindi sì ho una situazione in cui devo andare a verificare ma non con urgenza se il disco arriva al 95-99% a quel punto io devo correre perché se no si creano dei problemi e quindi posso gestirle in questo modo una soglia di warning in cui io vedo il giallo nella console ma non mi arriva la mail e una soglia invece di critical dove oltre a illuminarsi di rosso quindi cambiare proprio aspetto cromatico mi arriva anche la mail di notifica e poi anche in questo caso abbiamo il recovery il downtime schedulato eccetera c'è anche uno stato in più che è lo sconosciuto la no che viene generato quando è stato fatto un errore di configurazione nel comando nel servizio per cui i parametri non sono validi e il servizio restituisce uno stato che non è gestibile analogamente agli host possiamo andare a sfruttare dei template e anche in questo caso appunto vi consiglio di utilizzarli perché poi è molto più semplice modificare un template unico anziché decine di servizi e diciamo i passi per crearlo sono abbastanza semplici si definisce il servizio si definiscono i parametri di funzionamento quindi il comando che utilizza con i parametri le soglie e poi lo si associa a uno più host viene propagata in automatico quindi quando si modifica il template viene propagata a tutti gli host o servizi che ne fanno capo la creazione anche in questo caso è banale il menu di riferimento è sempre il configuration si aggiunge il servizio e appare questa schermata vi vedo che lo scusa se si vede poco poi comunque riceverete le slide in questo caso per fare un esempio ho creato un servizio che è la partizione di root di un server Linux quindi sono andato a dargli il nome disk barra ma potete dargli un nome di vostro gradimento il template sono andato a prendere quello generico quindi quello che abbiamo visto lavora 24x24 con le notificative il check period e gli do come comando questo qui che si chiama check central remote storage in questo caso non voglio andare a fare particolari modifiche perché mi va bene la configurazione di default che è questa il disco di root la partizione di root la qua c'è un'inversione delle etichette non mi ero accorto comunque è la partizione di root un warning all'80% un critical al 90% tralascio un attimino diciamo il discorso sull'SNMP perché va un attimino oltre questa questa presentazione se poi avete dimestichezza con l'SNMP sapete benissimo cos'è la community e l'SNMP version per il 90% delle configurazioni comunque vanno bene i parametri predefiniti che imposta lui poi vado nel tab relation e lo associo al mio host quindi lo seleziono dalla colonna di sinistra schiaccio add e lo porto sulla colonna di destra ho finito ho creato il servizio molto interessante si può associare anche a un gruppo di host quindi se ho definito il gruppo dei server domino e poi voglio controllare che ne so l'SMTP piuttosto che un altro parametro di tutti i server domino creo un servizio lo associo al gruppo e in automatico l'ho linkato a decine e centinaia di host analogamente a come ho fatto adesso si possono configurare dei template preimpostati quindi il classico CPU memoria file di paging sono poi le cose più importanti da controllare su un server una volta completata la configurazione Nagios non la prende in automatico ma va bisogna riavviare il demo nel servizio di Nagios non è niente di sconvolgente lo fa in automatico l'interfaccia di Centron il tempo è variabile in base al numero di host che avete configurato ma siamo sempre nell'ordine dei 30 60 secondi non di più per farlo si va sempre in configuration Nagios si selezionano tutte queste voci e si clicca export ci pensa un attimino e mi viene fuori diciamo il messaggio di ok a questo punto la nostra configurazione è stata recepita e quindi io ho diciamo configurato il servizio associato agli host scusate i servizi associati all'host che ho definito prima quindi questa è già una configurazione che vi permette di controllare un qualunque server Linux o Windows i parametri diciamo essenziali adesso vediamo come configurare il protocollo SNMP su Lotus Domino Lotus Domino supporta appunto il protocollo SNMP che è un protocollo ormai piuttosto adattato ma ancora in uso molto versatile per diciamo effettuare le query informative su degli host le informazioni che mi dà l'SNMP sono praticamente l'SS del Domino Domain Monitor quindi ovviamente diciamo l'obiezione che potreste farmi è allora che bisogno di configurare Centron se posso configurare le notifiche su Domino è assolutamente vero se vi interessa controllare solo Domino potete tranquillamente farlo con il Domino Domain Monitor però il vantaggio di Centron è avere innanzitutto una visione di insieme quindi io in un colpo d'occhio unico vedo decine o centinaia di server e in più mi raccoglie come abbiamo visto tutti i dati statistici che su Domino sono un pochettino più difficili da gestire è anche possibile non lo vedremo oggi ma è possibile usare l'SNMP in scrittura quindi generare i trap che fanno tra le altre cose è anche riavviare il server quindi potrei creare una configurazione su Centron tale per cui al verificarsi di un problema che io giudico irrisolvibile mi riavvia in automatico il server Domino la situazione è un po' estrema però se capita magari di notte o la domenica mattina può essere comodo che venga fatto un riavvio in automatico in caso di problemi le informazioni che diciamo sono disponibili su Domino sono catalogate in questo file che si chiama domino.mib questo file lo trovate nella cartella di installazione di Domino e lo potete vedere con un qualunque editor di testo raccoglie dei codici che iniziano con questa cifra che non vi leggo per non annoiarvi e terminano con altri numeri domino.mib come il main in black dentro questo file appunto sono catalogate tutte le informazioni che voi potete leggere tramite SNMP ci sono poi eventualmente degli editor tipo SolarWinds che permettono di vederlo un pochettino più comodamente con una struttura ad albero quindi ad esempio tutti i controlli mail raggruppati tutti i controlli classer raggruppati ma se cercate su Google ci sono anche dei siti che fanno la stessa cosa senza bisogno di installare niente a titolo esemplificativo ci sono alcuni parametri che posso leggere tramite SNMP quindi ad esempio le mail in pending sul router un dato molto importante il tempo medio inoltre di una mail queste sono informazioni che domino al suo interno io le vado semplicemente a leggere tramite SNMP un altro esempio è le transazioni per minuto il pic di utenze la disponibilità e la versione del server come facciamo a configurare l'SNMP su domino allora innanzitutto devo avere l'SNMP configurato sul sistema operativo ovviamente dipende qui parliamo di Linux poi vedremo anche per Windows dipende dalla distribuzione di Linux che avete se cercate nella documentazione della vostra distribuzione comunque ci sono le istruzioni sono abbastanza banali io poi qui vi ho indicato comunque un sito che dà delle informazioni per SUSE che potete seguire proprio passo passo il secondo step è diciamo configurare nell'init quindi nella struttura di avvio di Linux il demone SNMP di domino che lo si fa creando un link simbolico qua trovate il comando aggiungendolo ovviamente in avvio automatico in modo che venga poi fatto partire in automatico col server e editare il file SNMP.conf andando ad aggiungere questa informazione questo che cosa fa? permette al demone di domino di dialogare col demone del sistema operativo questa password è una password preimpostata da IBM quindi non è non dovete modificarla o fare altro ma semplicemente mette in comunicazione tra di loro i due servizi una volta fatto questo riavviamo sia il demone del sistema operativo che il demone di domino e per finire lanciamo questo task query set nella console di domino questo task diciamo è il terzo passaggio quindi domino cosa fa? ha questo task che gira al suo interno passa le informazioni al demone del sistema operativo di domino che a sua volta le passa al demone del sistema operativo SNMP che risponde poi alle nostre query sembra un po' complicato ma i comandi per gestirlo sono veramente banali non l'ho scritto nella slide ricordatevelo però ovviamente di inserire questo task nel nozzini perché altrimenti al riavvio del server domino non viene più avviato su windows è un pochettino più semplice perché diciamo il server SNMP di windows è già abilitato a ricevere informazioni da altri server SNMP e quindi i comandi sono un pochettino più basilari si registra il servizio lo si avvia e si lancia il task su domino per verificare che tutto sta funzionando correttamente c'è questo comando SNMP walk su linux che potete lanciarlo con questi parametri che vi ho indicato qui e permette appunto di fare una query SNMP su tutto l'albero di domino se vi risponde con una sfilza di informazioni vuol dire che tutto sta funzionando se il ritorno è una riga vuota vuol dire che c'è qualcosa che non va nella configurazione che avete fatto vediamo adesso come aggiungere alla nostra configurazione di Centrion dei controlli su domino cosa possiamo andare a controllare abbiamo già controllato cpu memoria file di paging eccetera eccetera noi però siamo principalmente sistemisti domino ci interessa controllare domino e quindi andiamo ad aggiungere dei controlli per prima cosa sulla porta TCP la 1352 quindi verifico banalmente che la porta TCP sia aperta e risponda con un certo frangente di tempo c'è anche un plugin volendo un pochettino più smart che oltre a interrogare la porta di domino verifica anche che risponda con il nome del server quindi fa proprio un'interrogazione col protocollo di di notes verifichiamo poi che sia in esecuzione il processo nserver nserver.exe a seconda che sia linux o windows e poi andiamo a leggere i parametri dall'SNMP di domino io poi qui nell'esempio vi ho messo il task nserver ma se volete potete controllare tutti i task tanto la sintassi poi è quella sapete come si chiama il task nel sistema operativo lo potete controllare la procedura per aggiungere un servizio è quella che abbiamo visto prima in questo caso ad esempio per fare il check del tcp andiamo a mettergli come comando check underscore tcp e come parametro numero di porta soglia di warning e soglia di critical sono in secondi qui ovviamente sono esagerati perché 5 secondi di attesa per la risposta di domino è uno stato altro che critico però è giusto per fare un esempio rapido se lo aggiungete con i decimali andate in millisecondi e quindi avete un dato un pochettino più reale poi diciamo che in questo caso più che i tempi di risposta ci interessa semplicemente risponde o non risponde perché la porta tcp potrebbe rispondermi in mezzo millisecondo però poi ci sono altri problemi per cui è un parametro abbastanza inutile però è importante che risponda analogamente andiamo a controllare con questo comando che è check center on process questo qua che vedete il nostro processo nserver tra l'altro credo di aver fatto un errore perché in realtà su linux è server non è nserver il processo giusto? quindi server poi magari corrego la slide prima di mandarvela anche qui i parametri snmp li tralasciamo perché diciamo dipendono un attimino dalla vostra configurazione se avete fatto una configurazione base dell'snmp quindi in versione 1 con la community public che è un'impostazione predefinita lasciate tutto così com'è infine allora una giusta osservazione diciamo che questo rientra un po' più nell'ambito della configurazione snmp del sistema operativo tenete comunque conto che nella configurazione snmp del sistema operativo è possibile aprirla a qualunque host quindi chiunque nella rete può fare un'interrogazione ma è anche possibile filtrare gli ip normalmente noi nelle configurazioni che facciamo diciamo al server snmp di accettare richieste solo dal server nagios così siamo sicuri che non ci sono intromissioni tenete conto che comunque l'snmp in versione 1 è un protocollo non cifrato quindi i dati viaggiano in chiaro sulla rete ci sono comunque moltissimi plugin la maggior parte che possono lavorare anche con l'snmp versione 3 che aggiunge un po' di feature in più di cifratura e autenticazione però diciamo questo è un pochettino più un argomento proprio legato all'snmp poi eventualmente se volete potete approfondire e configurare i plugin in quel modo quindi abbiamo introdotto dei controlli diciamo anche in questo caso abbastanza standard noi però prima abbiamo configurato l'snmp su domino e quindi adesso siamo anche interessati a leggere queste informazioni c'è un plugin che si chiama check underscore snmp che a differenza della maggior parte dei plugin di central e domini e nagios è compilato quindi è molto efficiente è molto veloce e permette di leggere un qualunque id snmp quindi abbiamo visto prima quali sono gli oid di domino io posso passargli qualunque oid come parametro e me lo va a leggere poi se andate a leggere la documentazione è anche possibile configurarlo un pochettino più finemente per raggiungere etichette quindi al posto di vedere 1.2. qualcosa leggo magari waiting time delle mail così so di cosa stiamo parlando ed è anche possibile raggruppare in un unico grafico più informazioni esempio classico tutte le informazioni del router potrebbe essere comodo averle sotto mano in un unico grafico quindi personalizzando il comando poi è possibile anche fare fare questo configurazione anche in questo caso banalissima gli do il nome in questo caso per fare un esempio ho messo domino deadmail l'oid che siamo che ho recuperato dal file mib una soglia di warning e una soglia di critical attenzione in questo caso ad aggiungere un punto zero alla fine dell'identificativo per quale motivo perché gli identificativi di snmp sono fondamentalmente degli array anche se in questo caso c'è solo un dato inserito all'interno viene comunque visto come un array quindi devo dargli l'indice zero altrimenti mi restituisce un errore quindi ricordatevi dallo id che leggete sul nib aggiungere punto zero nell'esempio ovviamente ho messo il parametro deadmail ma possiamo come abbiamo visto andare a leggere qualunque parametro preso dal file mib se l'oid è un dato numerico se entrano in automatico lo interpreta come un dato statistico e quindi mi raccoglie i log e mi genera i grafici se invece il dato è una stringa come ad esempio la versione di domino viene semplicemente visualizzato poi anche in questo caso è possibile modificando la configurazione del comando aggiungere espressioni regolari in modo da fare dei controlli una cosa che faccio spesso quando magari ci sono degli aggiornamenti massivi di versione di domino imposto questo task in modo che mi controlli che la versione sia l'ultima disponibile e io ho subito sott'occhio quali sono i server che non sono ancora allineati quando esce magari un fix pack piuttosto che un aggiornamento di versione allora concludo un attimino poi lascio magari spazio a una breve demo live dell'ambiente funzionante abbiamo visto come in poche poche ore ma in pochi minuti possiamo creare un sistema semplice essenziale di monitoraggio ovviamente abbiamo visto un po' di spunti si può ampliare con con mille plugin e aggiunte e diciamo un buon punto di partenza è la documentazione che trovate sul sito di Centrion che spiega tra le varie cose anche come gestire il discorso delle parentele quindi di mettere in diciamo in cascata i vari i vari host questa è la schermata diciamo finale del nostro esempio quindi abbiamo un server che si chiama Atlas con un controllo sul disco un controllo sul carico sulla memoria sul file di swap e una serie di controlli su domino qui nell'esempio ho messo il check tcp il processo e varie query snmp ho delle soglie critical perché ad esempio mi segnala si legge poco che la versione di domino è critica perché è una 852 fp3 io invece voglio accertarmi che siano tutte 853 quindi mi segnala che c'è un problema analogamente mi dice che ci sono 21 mail morte sul router io li ho impostati come soglia 20 giusto per fare un esempio e quindi mi da questa segnalazione vi lascio poi con alcuni plugin che possono rivelarsi utili nel nostro ambiente ad esempio il controllo dei server blackberry il controllo dell'rbl quindi verifica se il nostro server è finito in una blacklist anti spam in questo caso molto comodo perché prima ancora che il cliente ci si lamenti che non riesce più a inviare posta perché viene rimbalzata mi manda un alert questi sono un pochettino più macchinosi da configurare però insomma ci sono e poi hardware IBM quindi controllare temperatura dei blade ventole se avete schede RSI i series storage tutti i server IBM supportano l'SNMP e quindi possono diciamo generare informazioni DB2 WebSphere anche qui ci sono vari plugin il check domain che verifica se la scadenza del nostro dominio è prossima quindi ci avvisa con una mail e poi c'è anche un controllo per domino che anziché usare l'SNMP utilizza il di IOP sconsiglio di utilizzarlo perché il di IOP è un pochettino più invasivo sulle risorse che occupa su domino perché ogni volta viene lanciata un task Java e quindi ovviamente è un pochettino più invasivo però se per qualunque motivo non volete non potete usare l'SNMP c'è questa alternativa vi faccio poi vedere così una piccola diciamo un piccolo briefing su due plugin commerciali che però non costano cifre esagerate che permettono di raggiungere delle funzionalità carine e che poi spesso diciamo i clienti soprattutto di fascia magari enterprise possono apprezzare il primo è questo che si chiama Centron Map che permette di creare delle mappe sia con un eventuale sfondo come ad esempio la figura del globo sia semplicemente a livello gerarchico per visualizzare tutte le informazioni queste mappe poi sono interattive e diciamo cliccando sulle varie voci poi si va a esplorare nel dettaglio quello che è il nostro il nostro ambiente un altro plugin molto interessante molto richiesto è il business intelligence che permette di creare prendendo i dati da Centron della reportistica personalizzata tra l'altro con eventualmente il vostro logo le informazioni che volete quindi viene schedulata una estrapolazione di dati si fanno dei report in pdf che vengono spediti al manager piuttosto che al responsabile anche questo se magari avete discorsi di service level agreement o comunque cose del genere è molto utile generare questi report vi faccio vedere giusto rapidissimamente ecco questo ad esempio è una demo che trovate anche sul sito di Centron del Centron Map quindi noi vediamo diciamo la risoluzione è un po' bassa quindi è un po' schiacciato abbiamo una visione di insieme passando diciamo sulle varie righe in questo caso ad esempio ci ho configurato il ping quindi è interattivo mi mostra subito il grafico e lo stato di funzionamento e cliccando eventualmente sulla regione vado a ingrandire più nel dettaglio e a vedere poi tutte le informazioni questo se poi magari avete un bel monitor 60 pollici da mettere nel chat o nell'area IT è molto carino farlo visualizzare questo qua invece ad esempio è uno dei report che vengono generati dal dal business intelligence dal modulo business intelligence quindi vedete ad esempio questo qua riguarda i firewall quindi fa tutti dei grafici di utilizzo della banda in base ai vari giorni del mese poi questo qua è completamente personalizzabile decidete voi i servizi da utilizzare questi sono plugin a pagamento però insomma possono avere la sua utilità se vengono richiesti e poi per concludere abbiamo visto diciamo prima la nostra configurazione base e questa è una diciamo live dell'interfaccia di Centrion in questo caso siamo andati a filtrare il server Atlas mi fa vedere tutti i servizi che ci sono configurati e passando sopra le varie iconcine anche in questo caso chiedo scusa per la risoluzione vengono visualizzati i grafici se poi io clicco nel servizio mi dà il dettaglio quindi in questo caso ad esempio c'è uno stato critico se clicco su un servizio invece che un pochettino lento perché sono una macchina virtuale su un pc per cui su cui gira anche il server domino tra l'altro se clicco ad esempio su un servizio che ha diciamo un dato numerico mi fa vedere il grafico che poi posso eventualmente ingrandire posso andare a filtrare in base alla data e all'orario si vede un po' poco la riga perché è un colore chiaro però anche tutti i grafici poi andando qua nella configurazione potete andare a personalizzare i colori delle curve i valori di soglia e tutto quello che ci va dietro la parte si ma un servizio aggiuntivo ah l'NS client ok ma allora l'NS client fondamentalmente è una diciamo un'interpretazione un pochettino diversa nel monitoraggio nel senso che in quel caso viene gestito anziché facendo le query SNMP installando fondamentalmente un agente sui vari server da controllare noi all'epoca avevamo fatto un attimino delle analisi c'era convenuto di più utilizzare l'SNMP era un pochettino più semplice più immediato da utilizzare comunque sia Centron che Nagios supportano tranquillamente l'NS client no mi sembrava molto macchinosa come configurazione e trovavo pochi vantaggi rispetto all'SNMP poi devo dire la verità diciamo io mi occupo più che altro di dell'aspetto di Lotus Domino ho poi qua la collega che ha seguito più nel dettaglio la configurazione di Centron magari eventualmente poi vi faccio parlare con lei se avete domande un pochettino più specifiche però vi dico abbiamo fatto un pochettino delle analisi rapporto benefici sbattimento non era conveniente ecco perdonatemi il termine l'SNMP è essenziale c'è un protocollo velocissimo facile da configurare vi dà pochi problemi niente niente questo appunto come vi dicevo è l'interfaccia nella home page in questo caso ci vengono segnalate solo le criticità perché ovviamente è quello che mi interessa in questo caso ho semplicemente due stati critici e poi ho appunto il riassunto del funzionamento quindi due host configurati due host up zero down zero irraggiungibili eccetera eccetera io a questo punto diciamo la presentazione è conclusa se ci sono eventualmente altre domande sono a vostra disposizione ancora per cinque minuti vabbè poi c'è il coffee break per cui se volete rinunciare al coffee break eventualmente dimmi tutto bella domanda bella domanda allora in linea di massima influenza solo ed esclusivamente la diciamo reattività dell'interfaccia fino a un certo punto però perché se ovviamente il server è talmente carico che non riesce a fare i controlli ad esempio nella configurazione di default il controllo del servizio viene fatto ogni cinque minuti quindi se ho tanti servizi e in cinque minuti non riesce a farli tutti finisce che si accodano e quindi non avrò più il dato ogni cinque minuti ma magari ogni dieci o ogni quarto d'ora quindi mi diminuiscono i dati statistici che sono in grado di raccogliere però ripeto se voluto se installate l'enterprise che è proprio una versione di linux stra-ottimizzata per questo prodotto i requisiti hardware sono proprio essenziali dimmi sempre sul plugin di domino spesso capita che tu quei domino che stai in piedi ruota la posta ma non accetta connessione il diciamo non quello base diciamo il plugin più evoluto è in grado di la tua esperienza intercettare questo tipo di errori allora nel senso che se il server domino è proprio in una fase in cui non risponde quindi il client si collega e mi dà un timeout e mi switcha sull'altro cluster in quel caso viene segnalato perché non gli arriva la risposta col nome del server se invece il server mi risponde ma è talmente nento che si pianta in quel caso va un attimino più si comunque c'è già un feedback c'è già un feedback poi non l'ho è una cosa diciamo che è tra quelle lo faremo volendo c'è anche la possibilità in java di fare un finto client notes quindi che utilizza proprio un id effettivo con una puzzle e quindi a quel punto il controllo è totale se qualcuno poi ha voglia di svilupparlo più che volentieri lo acquistiamo allora anche in quel caso ovviamente dipende da quanti controlli vengono fatti se vi ho configurato un servizio che ogni minuto va a fare 20 query su domino ovviamente un minimo però siamo nell'ordine di 0.1% di CPU è proprio un protocollo che va a leggere i dati dal DDM che sono già lì pronti e li trasferisci via UDP a un altro host quindi consumo proprio di risorse è minimo infatti è per quello che come dicevo abbiamo scelto l'SNMP anziché il DIOP perché il DIOP ogni volta che si faceva una query era un pochettino più pesante abbiamo finito le domande grazie io poi qua vi ho lasciato i miei contatti e eventualmente anche i contatti come dicevo della persona sia della tecnic che della commerciale che all'interno della nostra azienda si occupano di Centro se avete domande siamo a vostra disposizione grazie ancora per l'attenzione